Vangelo di domenica 4 settembre 2022 Luca 14 25 33 dal Vangelo secondo Luca in quel tempo una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. Chi di voi volendo costruire una torre non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro tutti coloro che vedono comincino a deriderlo dicendo costui ha iniziato a costruire ma non è stato capace di finire il lavoro. Oppure quale re partente in guerra contro un altro re non siede prima a esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila? Se no mentre l'altro è ancora lontano gli manda dei messaggeri per chiedere la pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Parola del Signore Gesù con il suo tipico stile avvisa i suoi discepoli quelli che vogliono seguirlo. Gesù non vuole mettersi in agonismo, in confronto, in concorrenza con i nostri amori. li vuole solo o meglio li vuole soprattutto rendere più belli, farli fiorire e lui sa che un amore di più, un amore più grande verso di lui non può che far fiorire, che far migliorare, che rendere più belli tutti i nostri amori. L'amore per Gesù non mortifica gli amori umani ma li rende più autentici, li rende più profondi, li rende eterni. Sa bene anche che l'amore è costoso. Amare non è una passeggiata sentimentale un po' sbrodolata o un po' dolciastra. Amare è un impegno quotidiano che richiede anche sacrifici come tutte le mamme e i papà sanno ad esempio per i loro figli. L'amore è qualcosa che nel Nuovo Testamento coincide con il verbo dare. Dare gratuitamente. Amare significa dare e questa è la croce cristiana, quello di cui parla Gesù, colui che non porta la propria croce e viene dietro a me, non può essere mio discepolo. La croce cristiana non è principalmente, primariamente, sopportare pazientemente le sventure della vita. Quelle ce le hanno tutti, non ce le hanno solo i discepoli di Gesù, le malattie, i lutti, i guai di tutti i generi. Non è proprio questa la croce cristiana. Gesù non parla mai di queste cose. Parla invece della fatica di amare, di vivere il Vangelo, di non mettere se stessi al centro, di aprirsi agli altri. Questa è la croce che Gesù ci chiede di portare prima di tutto. In questa anche tutte le altre croci, tra virgolette, tutte le altre fatiche della vita. Ma la prima fatica, la prima croce, la croce quella che lui chiede al discepolo di prendere tutti i giorni, è proprio la fatica di amare, la fatica di vivere il Vangelo e di pensarci bene. Perché si tratta anche di liberarsi da tutto ciò che ci impedisce di dare. Chi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Non è che tutti dobbiamo fare come San Francesco o Madre Teresa, che sono dei segni bellissimi. Però, ecco, noi abbiamo delle cose, abbiamo del tempo, abbiamo delle possibilità. Se queste cose diventano dei doni, diventano dei trampolini per la condivisione, diventano delle possibilità per far fiorire la vita degli altri, ok, altrimenti, dice Gesù, diventano dei lacci, diventano dei pesi che ci impediscono di seguirlo. Ecco in che senso chi non rinuncia a tutti i suoi averi, cioè chi non fa della sua vita e anche delle sue cose, del suo tempo, dei suoi soldi, delle sue possibilità, un dono per la vita degli altri. Ecco il discepolo di Gesù che segue quel maestro povero e libero che indica la strada della vera gioia.